E' finita l'avventura di Matteo Berrettini a US Open 2021. L'Azzurro è stato infatti battuto da Nova Cadiokovic ai quarti di finale. Il numero uno al mondo si è imposto all'Hartways Stadium di New York con un punteggio di 5-7-6-2-6-2-6-3. Berrettini è riuscito a strappare il primo parziale dopo un'ora e 17 minuti ma ha poi dovuto arrendersi al serbo. Il tenista romano ha pagato un rendimento al servizio meno efficiente del solito ma può consolarsi con il settimo posto raggiunto nel ranking ed è record in carriera. Grazie a tutti.